Eccoci qua, oggi parliamo di librerie e di un'iniziativa che è volta ad aiutare la vendita delle librerie classiche come avvicinare gli utenti finali a questo vecchio modo di acquistare i libri lo faremo subito dopo la sigla Eccoci qua, possiamo iniziare subito a parlare di questo tema con Leonardo e Livia Ciao ragazzi, come state? Grazie di essere qua Ciao, buona serata Ciao, grazie dell'invito Voi siete una risposta sostenibile ad Amazon, come mi rispondete a questa affermazione? Allora, io tendo sempre a rifuggere in realtà a questo parallelismo perché paragonarsi a Amazon non è mai saggio se non sei Amazon quindi noi siamo più che altro un'alternativa non siamo un concorrente, non siamo un portale che vuole fare le scarpe Amazon ma siamo semplicemente un luogo online dove le persone che sono abituate a comprare appunto online su internet i loro libri possano trovare un'alternativa a questo colosso della vendita online facendo anche qualcosa di etico e sostenibile come dicevi te quindi sostenendo la propria libreria di quartiere o comunque una libreria del territorio senza uscire di casa esattamente questo è il motivo per cui nasce BookTiller per fornire alle librerie di quartiere e alle librerie indipendenti un modo totalmente gratuito per avere una propria presenza anche massiccia online su un sito che funge anche da aggregatore per tutte le librerie indipendenti che vogliono aderire dove l'utente può trovare un'ampia scelta di consigli, di percorsi e soprattutto di tante 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 librerie davvero interessanti senza alzarsi dal computer o comunque mantenendo la user experience cui è abituato quando fai gli acquisti sui grandi store online Qual è il valore aggiunto della libreria fisica oggigiorno? È un luogo ancora attuale o è semplicemente una realtà che andrà perdendosi nel tempo? Cosa ne pensate voi? La libreria fisica sul territorio, quella indipendente o anche di catena in realtà comunque il negozio fisico dove si va a comprare libri credo che resterà un presidio culturale per sempre in realtà perché comunque il lavoro che fanno le librerie indipendenti o non in realtà comunque tutte le librerie nelle città, nei quartieri, nei paesi oltre alla semplice vendita dei libri, loro fanno promozione culturale, loro lavorano sui contenuti lavorano in contatto diretto con la popolazione, con la cittadinanza per trasmettere dei contenuti ed è una cosa che non può fare nessun altro i consigli di che danno i librai in libreria, la conoscenza che hanno delle famiglie che entrano dei lettori forti o anche no, che però si presentano in libreria con regolarità dei loro gusti, la conoscenza che hanno del catalogo perché questa sembra una cosa sciocca, sembra una cosa banale che magari un algoritmo fa molto molto bene però in realtà la loro esperienza di lettura negli anni è insostituibile e anche in realtà quello che è successo nel corso della a partire dal primo lockdown in avanti è stata una grandissima riscoperta dei luoghi fisici una grandissima riscoperta al di là ovviamente della volontà del singolo di uscire di casa perché stiamo impazzendo tutti però al di là di questo si è proprio riscoperto un rapporto ed è per questo in realtà che Book Dealer è andato così bene e sta ancora andando così bene perché valorizza questo rapporto perché non vuole sostituirsi al rapporto fisico lo accompagna, lo alimenta si crea un bel circolo virtuoso di un utente che è un utente, acquista online ma è anche un lettore e quindi scopre una libreria si presenta in libreria in una libreria che ha scoperto magari perché ci ha acquistato su Book Dealer Book Dealer che valorizza la geolocalizzazione ha scoperto che a 200 metri da casa sua c'è questa libreria e si presenta va in negozio, conosce il libraio e si avvia un bel dialogo quindi io no, credo che non andranno a scomparire anzi, credo che diventeranno sempre più importanti la cosa fondamentale è riuscire a valorizzarle all'interno della filiera dar loro sempre più strumenti e anche possibilità di espressione perché la loro creatività la creatività che hanno dimostrato questa realtà nel corso del primo lockdown è incredibile quindi bisogna semplicemente sostenerle assolutamente sì anche perché il presidio fisico permette di dare A valore aggiunto e B relazione col cliente come hai detto tu correttamente Livia quindi l'incoraggiamento che do io a prescindere dalle librerie ma amplierei il discorso a tutti i negozi fisici è quello di evolversi in questa direzione perché più tu ti sai differenziare dando valore aggiunto e customizzazione e chiudendo relazioni con il tuo cliente più hai tendenzialmente probabilità di avere successo verso, contro, versus come si dice in inglese quelle compagnie online come Amazon stesso scusate se continuo con questo paragone ma è per semplicità che sì sanno fare molto bene il loro lavoro però sono un po' impersonali e un po' generiche tu Livia sei direttore vendite direttore commerciale di Book Dealer quindi ti vorrei chiedere parlaci un po' di numeri di che dimensioni stiamo parlando e anche quali sono i libri che stanno andando in questo momento sì sono il direttore vendite quindi in effetti mi piace anche parlare di numeri la cosa bella da cui si parte sempre quando si parla di Book Dealer da quando io parlo di Book Dealer è il numero delle librerie siamo partiti il 27 d'agosto una data un po' strana, un po' particolare ma perché avevamo una bella partnership in partenza con la grande invasione che è un festival che si tiene a mevria tutti gli anni quindi siamo partiti il 27 di agosto che avevamo 120 librerie scritte nel giro di una settimana sono diventate 250 e adesso sono 700 la cosa molto bella è che abbiamo una diffusione capillare sul territorio incredibile ci sono librerie in grandi città librerie di paese nord, sud sono 95 le province che sono coperte se quantiamo che sono 110 in Italia quindi direi che c'è una bella distribuzione abbiamo consegnato barra spedito o meglio i librai hanno consegnato barra spedito libri in 5400 comuni in tutta Italia e ci sono tra l'altro ovviamente degli utenti che acquistano dall'estero perché consegniamo in tutto il mondo quindi abbiamo anche un bel numero di spedizioni ma veramente dappertutto ci sono i brai che ci chiedono anche quali sono le tariffe per il Kazakistan quindi insomma siamo contenti di questa cosa e arriviamo anche oltre confine con le librerie perché una delle librerie scritte che è stata una delle prime a iscriversi in realtà è la Piola di Bruxelles quindi loro fanno consiglia domicilio utilizzando Book Dealer a Bruxelles quindi all'interno della loro città, del loro territorio questo per quanto riguarda le librerie per quanto riguarda i libri i più venduti la cosa molto bella anche qua in realtà si riflette viene o meglio è un riflesso del lavoro che fanno i librai con i loro consigli perché noi vendiamo cioè i libri più venduti c'è proprio una sezione sul sito se volete andare a dare un'occhiata con i più consegnati i più spediti sono anche libri da classifica però ci sono anche molti libri invece di editori medio-piccoli di editori indipendenti forti uno dei nostri best seller che comunque è andato in realtà in classifica ne siamo molto contenti e siamo anche molto contenti di aver aiutato nel lancio al lancio di questo titolo è Ragazzo ad un altro di Sur dell'Ebaristo che è un titolo effettivamente di un editore medio in Italia indipendente che comunque tiene adesso stavo guardando giustore i dati di vendita dell'ultima settimana è ancora il secondo titolo più venduto su Book Dealer ci sono anche tanti la cosa bella che c'è una bella varietà una bibliodiversità anche nei ragazzi questa è una cosa che ci rende molto orgogliosi l'editore per ragazzi più venduto è Baba Libri quindi insomma siamo molto contenti di questa cosa e una cosa molto bella sono anche in realtà le classifiche di libri consigliati appunto dai librai c'è una sezione sul sito proprio una pagina che si chiama i consigli dei librai e quella è la classifica di libri che vengono più consigliati dei librai che cambia di settimana in settimana cambia a seconda delle uscite cambia a seconda dei nuovi arrivi come librerie però è veramente molto bella perché è un modo per vedere cosa piace ai librai che sono i lettori più forti in assoluto è molto interessante anche nella parte in cui dici spediamo anche all'estero perché io vivo all'estero e so che non è facile trovare libri in italiano quindi gran bel servizio per gli utenti finali chi ci sta seguendo in questo momento tutti i contatti sono qua sotto nella descrizione ma vorrei farvi la domanda cosa deve fare un libraio per aderire a BookDealer ma allora in realtà è piuttosto semplice nel senso che noi BookDealer è una come diceva giustamente Leo la piattaforma una piattaforma di e-commerce che fa da intermediario fra il lettore e il libraio indipendente quindi è sufficiente essere una libreria indipendente andare sul sito compilare il form non ci sono costi di iscrizione noi non prevediamo costi di iscrizione abbiamo da poco introdotto una coozione ma che viene restituita non devono neanche caricare le loro giacenze quindi anche dal punto di vista tecnologico è piuttosto semplice ci indicano solamente gli editori che non vendono e dopodiché possono compilare il loro profilo quindi inserire molto bello perché c'è una bella personalizzazione la loro storia le biografie dei librai mettere dei percorsi di lettura che sono una cosa estremamente seguita dai lettori inserire appunto i propri consigli ed è bello perché il consiglio appunto c'è nel profilo della libreria che è come se fosse una specie di shop virtuale anche se è un po' limitante chiamarlo così il consiglio appunto compare lì ma poi compare anche sulla scheda del libro questa è anche una cosa molto bella se un utente naviga sul sito perché sta cercando dei titoli ma non perché vuole scoprire delle librerie può succedere anche questo quando va sulla scheda del libro cambiare l'acqua ai fiori c'è un bel box con consigliato da e ci sono tutte le librerie che lo consigliano un titolo che non ho detto a caso perché è veramente iper consigliato quindi vi invito ad andare a dare un'occhiata perché è molto bello che un titolo sia così tanto consigliato delle librerie quindi una volta che ha compilato il proprio profilo indicato agli editori che non vende ci ha anche detto se vuole fare consegna a domicilio a spedizione con corriere o ritiro a libreria perché un'altra delle caratteristiche di book dealer delle quali mi piace sempre parlare è la flessibilità la versatilità e soprattutto l'adattabilità alla realtà della libreria perché è la libreria che sceglie il raggio di consegna della consegna a domicilio a seconda delle proprie possibilità la frequenza di consegna anche perché magari un libraio che è da solo in libreria quindi non può andare tutti i giorni a consegnare oppure ce la fa anche se da solo comunque l'importante è che il servizio non crei un surplus di lavoro faticoso ma che si innesti che rispecchi la sua proposta per questo ci dicono quali sono gli editori che vendono o non vendono che sia anche all'interno delle proprie possibilità dal punto di vista pratico e poi basta e poi si comincia si comincia a vendere molto 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 semplice semplice a dirsi bravi voi ad averlo realizzato Leonardo mi interessa la tua opinione sulla sostenibilità del libro fisico abbiamo parlato della libreria con Livia mentre tu cosa pensi di quanto possa ancora continuare ad esistere ad essere utilizzato il libro fisico chi ne sa mi dice che i pattern cognitivi questi paroloni importanti delle nuove generazioni stiano cambiando è diventato virale un video di un bambino di 3-4 anni che cercava di scrollare con il dito un cartellone pubblicitario che non scrolla perché non è un display tu come la vedi continueranno i libri fatti di carta come quelli che abbiamo noi a casa ad esistere ad essere utilizzati o ci sarà un momento negli anni in cui si switcherà completamente sugli ebook no non penso allora io intanto premetto che per rispondere in maniera approfondita a una domanda del genere bisognerebbe rivederci altre 20 volte per portare avanti la discussione su questo tema in realtà io seguo un po' quello che aveva introdotto Livia all'inizio ossia la durabilità e la sostenibilità nel tempo dei punti vendita perché se i punti vendita sono vuoti è difficile che poi continuino a restare un presidio culturale e un luogo importante nel quartiere io sono convinto che il libro fisico esisterà sempre sarà sempre centrale nella produzione di un editore e quindi nella fruizione da parte dei lettori la nascita e la sempre maggiore diffusione del libro digitale dell'ebook delle tecnologie che si fanno fanno scrollare i bambini sui cartelloni pubblicitari e che magari cercano di inserire la password per aprire la copertina di un libro purtroppo questo è un segno più che del deterioramento della lettura è un attimo un segno dei tempi del deterioramento dei processi cognitivi ma qui proprio è un campo che purtroppo non ci riguarda o meglio ci riguarda come editori io faccio l'editore Livia lavora con me anche nella casa editrice e il nostro compito principale è quello di continuare sempre a pubblicare e a produrre libri che stimolano la riflessione che stimolano l'auto diciamo il guardarsi dentro e stimolino la voglia di leggere ancora e di prendere in mano sempre nuovi libri di conoscere e di sapere poi se questi libri sono in formato digitale o in formato cartaceo cambia solo il prezzo perché a livello di cosa fa una persona quando legge un libro l'ho detto proprio adesso legge quindi che sia adesso digitale o cartaceo cambia il giusto resta il fatto che secondo me il libro cartaceo non passerà mai di moda io sono un lettore sarò vecchio stile sarò legato a vecchi utilizzi comunque non sono così anziano sono 35 anni quindi è anche un sono anche un un campione abbastanza veritiero no delle generazioni la mia generazione io ho una libreria piena di di libri di libri fisici di libri cartacei anche libri come si può vedere ho un ho un tablet che mi è stato regalato e che apro una volta l'anno probabilmente infatti ora non so dove sarà scarico da qualche parte questo per dire che non non sono un amante del libro digitale questo non vuol dire che lo escluda completamente anche dalla nostra produzione come editori noi pubblichiamo i book sarebbe sciocco ostinarsi a non farlo perché siamo dei paladini della superiorità del libro fisico è semplicemente un modo diverso di fruire la lettura detto questo no rispondo seccamente alla tua domanda no credo che il libro cartaceo andrà avanti ancora per un bel tempo infatti ma sono d'accordo anch'io anche perché i mercati non sono mai bianco o nero ci sono i segmenti di cui parla chi si intende di marketing quindi utenti che si rivolgeranno all'ebook utenti che si rivolgeranno come me anche io abbiamo più o meno la stessa età anche io preferisco il libro cartaceo consiglio mio è indipendentemente da che sia cartaceo o un ebook gente leggere perché ho amici che si affidano agli audiolibri altri che guardano filmati ma la mente funziona come un muscolo quindi se la mente viene esercitata rimane rimane fresca e rimane attiva se non fai lo sforzo che comunque serve per leggere un libro lì poi la mente si siede e diventa difficile più si avanza con gli anni anche io non ho ancora 40 anni però comincio già a sentirlo adesso comincia ad essere un po' difficile avere la freschezza che si aveva quando si aveva 20 anni prima di chiudere l'intervista vi voglio dare un minuto a testa per lanciare un messaggio a chi ci sta seguendo vai inizia tu Lidia così io penso nel punto da te allora chi ci sta seguendo beh vi invito appunto ad andare su book dealer navigare andare a vedere i consigli dei librai e di entrare nelle librerie perché il lavoro che loro fanno di entrare a doppia valenza però il lavoro che loro fanno di consiglio di seguire il lettore con i suggerimenti di lettura con i percorsi quello lo trovate in piccola parte su book dealer e questo vi permette di scoprire tantissime realtà tantissime realtà diverse e poi di entrarci anche fisicamente e basta io invece faccio un appello un pochino più generale sempre relativo a book dealer che riguarda le modalità di acquisto quindi io so che questi tempi frenetici ci hanno abituato a un determinato tipo di acquisto so bene che quando uno compra su internet vuole le cose subito noi cerchiamo con il nostro servizio di scardinare un po' questa mentalità del tutto e subito per riportare in auge la cara vecchia mentalità slow il libro non scade il libro non ha bisogno di essere fruito immediatamente quindi sostenere una libreria indipendente tramite book dealer può voler significare aspettare un pochino di più rispetto ad Amazon o ad altri servizi ma ne vale tutta la pena perché comprando presso le librerie indipendenti comprando tramite book dealer o comunque andando in negozio si sostiene una realtà importante del territorio che se non ci fosse avremmo tutti molti più problemi si sostiene la cultura anche e si sostengono anche le famiglie che stanno dietro ai negozi ragazzi grazie mille per il vostro tempo stasera e passo al wrap up dell'intervista trovate tutte queste i collegamenti a book dealer il sito e ulteriori informazioni nella descrizione qui sotto se vi è piaciuto il video cliccate like seguiteci se già non lo fate ma soprattutto mettete commenti perché sarebbe interessante vedere sapere il vostro punto di vista sul tema di cui abbiamo parlato adesso grazie mille di essere stati con noi alla prossima cheers and ciao 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 ciao